Pronto? Super! Ho trovato questo numero, con chi parlo? Ah, è Gioan, Gioan Blanco, ho capito, come ti possono essere utili? Sarebbe avvilita la casa? Allora Gioan, la verità, la ragione era di usciare la piccola, cioè non è che voglio insegnarti come si fa la piccola, però se lui, per esempio, quando eri piccola, faceva le cose che facevano i padri nella moto, per esempio, appena si dice... che una volta, per esempio, che tu, bravi, che gli regalassi il cantatù, non si sentiva bene e che lo lasciare mai tutto il salotto, tutto il soggiorno, le cummolle, le culunette, tu per esempio, se tutto andrà, appena il buco, ho fatto come bububububu, all'anamato sangue, chi te, 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 te... ti lavora e poi subito fanno i brividi, brividi, e facendo il colore, ora se era così, per esempio, ieri sera non si sente la cuffia, se è possibile ripetere la canzone, e faccio la persona per bene e tu guardi e succede per stare là dentro. Allora frate, non so che dire, ma ovviamente è stata fatica al giorno, secondo me si mette a fare pure il cantinolo, le terrazze o anche i giardini, ora lo prendono perché è una bella e la nomea è arrivata. Io ti trovo qualcosa che ti faccio sapere, va benissimo. Voglio dire pure che o blanco o russi, si mette su Cervas di Tarantella. Ok, pazienza, dopo qua, un po' che trighiamo qui. Ciao blanco, saluto monocchus.